Per noi è stato un grande piacere aderire al progetto Ideal che combatte appunto gli effetti del cambiamento climatico, l'erosone costiera, la siccità, la mancanza, l'impoverimento legato alle biodiversità sono un problema che stiamo affrontando in sinergia con tante amministrazioni attraverso l'elaborazione di una strategia comune che speriamo possa dare i frutti che tutti noi speriamo e attraverso anche un'azione di formazione che possa rendere i cittadini consapevoli del grande problema che stiamo vivendo e che ci deve spingere in un'unica direzione senza differenza di colori, di ideologia affinché il nostro pianeta possa essere preservato e salvato. Grazie per la visione!